Se riconosci questo sito web della Icono CFD, c'è una grandissima possibilità che tu sia stato vittima di una truffa. Allora, ascoltami molto bene, questo è un altro video importante che faccio per cercare di mettervi in guardia su come riconoscere che tutti questi generi di piattaforme sono delle truffe. Non sono dei veri siti web, non ci sono delle vere società dietro a questi siti web. Queste piattaforme sono finte, servono solo ed unicamente per rubare i vostri soldi. I saldi che voi vedete sulle loro piattaforme non sono soldi veri. Quando voi avete fatto il bonifico, i loro soldi li hanno presi, se li sono messi in tasca e poi vi fanno vedere un finto numero sulla vostra trading platform. Non ci credete? Allora ragazzi, cerchiamo di capire che abbiamo davanti. Icon CFD. Come sempre, la prima cosa che dico quando si entra sul sito web, si va giù in fondo nel sito e si guarda chi è il proprietario del sito. È obbligatorio per legge mettere il nome della società. Subito vediamo che non c'è nessun nome di nessuna società. C'è questa Icon CFD che non è una vera società, non esiste. C'è un indirizzo che è un indirizzo in Australia che non è, come posso dire, un ufficio, ma è una zona dell'Australia. Quindi l'indirizzo è completamente a caso. Non c'è un numero civico. Questo dovrebbe essere dove c'è ragazzi l'ufficio. Ok? Questa qua è l'ufficio, guardate. Di questa Icon CFD. Icon CFD che cosa fa? È molto semplice. Promette, come sempre, di gestire i vostri soldi, di permettervi di fare trading con MetaTrader 4, che è una delle piattaforme di trading più famose al mondo. Ma chiaramente, ripeto, non fanno niente di tutto ciò. Quando voi gli trasferite i soldi, i soldi spariscono. Uno potrebbe dire, ma Samuel tu esageri, va bene. Andiamo a cercare di trovare qualche informazione su chi è il proprietario di questa società. Se vado su Contact Us, non trovo niente, a parte questo indirizzo che non mi dice assolutamente nulla. Chiaramente ci sono tutti una serie di loghi che hanno messo in fondo per far finta che questa società sia in qualche modo associata a questi grandi brand. E poi, attenzione ragazzi, vi faccio vedere questa cosa. Chiaramente oscurando di uno dei nostri clienti, eccola qua, la distinta della contabile del bonifico truffa che gli hanno mandato, facendo finta che un certo Robin Van Holden gli voglia mandare 21.000 euro. E dice, però, guarda, per ricevere questi 21.000 euro me ne devi dare 5.000. Bellissimo questo indirizzo. Icon CFD, via Basilicata 5, Grezzago, Milano. Allora, vediamo un attimo se esiste. Via, Basilicata, Grezzago, no, Grezzago, Milano. Eccolo qua. Questo qua dovrebbe essere l'indirizzo dell'incredibile ufficio. Come vedete non c'è nessun ufficio, c'è una casa in costruzione, quindi indirizzo completamente falso, chiaramente. Non ci sono, non so neanche dove l'abbia tirato fuori questo indirizzo perché è proprio una roba, è una mini via con una casa in costruzione e un'altra villetta, basta. Quindi indirizzo falso, chiaramente. E a tutto questo si vanno ad aggiungere ulteriori controlli. Allora abbiamo detto che questa società dichiara di avere la licenza per poter fare il trading. Chiaramente andando a fare una ricerca si scopre che non ha nessun tipo di licenza, questo sito, e già questo dovrebbe farci capire che chiaramente non sono in nessun modo autorizzati a gestire i tuoi vostri soldi. L'altra cosa che, ripeto, i clou sono nel sito web. I truffatori, in un certo senso non capisco neanche perché, perché potrebbero metterli i dati di una società finta. Tanto ormai, mentito per mentito, ti sei messo un indirizzo falso in Australia, e metti un nome falso di una società, no? No, invece sono così stupidi che non si spingono a tanto. Comunque, il concetto è che chiaramente non c'è nessun modo, non c'è nessun privacy policy, terms and conditions, non c'è niente, non ci sono nomi di società, fotografie, di persone che potrebbero essere dietro a questa società, non c'è niente. Se io vado su Our Vision, c'è un testo che non significa assolutamente niente. Se vado su Rewards, questi sono i Rewards che hanno vinto come miglior broker del mondo, anche qui Rewards Finti, Liquidity Providers, anche qui chiaramente non ci sono informazioni, a parte i loghi che non gli appartecono. Facendo una ricerca, poi vado a trovare che su Trustpilot ci sono una marea di persone che sono state truffate. Però, attenzione ragazzi, leggiamone qualcuno. Allora, IconCFD, cappeggiata da un certo signor Stefano B. e Berger, truffa da ben 42.000 euro. Mi dispiace davvero tantissimo per questa persona. Ha perso 42.000 euro che gli ha dato a questa società truffa. Altre persone hanno perso soltanto 189 euro, perché praticamente questa società cosa ti dice? Che per poter far trading il primo mese gli devi pagare una fee. E questa fee è intorno a 200-300 euro. Promettono dopo che questa fee, dopo il primo mese, te la restituiscono. Chiaramente non è così. Qualcuno purtroppo si è fatto fregare, nel senso che loro, diciamo probabilmente, molte persone che scrivono, anche se sono persone di una certa età, sono persone che sono cadute nel tranello, non riescono neanche a capire che è una truffa. Ok, sono stato contattato per aver versato 200 euro, ma è versato in un conto Amazon. Se versavo ulteriori 190 euro, avrei ricevuto una plusvalenza giornaliera assicurata di 20-30 euro. Ho comunicato dati e rati della carta di credito e, mentre ero al telefono con l'incaricato, mi hanno avvisato dell'errore. Cioè avrebbero prelevato senza il mio permesso. Inutile dire che non sia più possibile richiamare il numero usato austriaco. Cioè è tutta una truffa. Io non so perché gli abbia dato 5 stelle, onestamente questa persona, perché non sa usare, questo Stefano purtroppo, magari non sa usare Traspilot, le persone sono anche molto ignoranti, vedono 5 stelle e dicono ah, caspita, mi fido. No, no, questa è una grandissima truffa. Chiaramente proseguendo la nostra ricerca, poi esce fuori questo sito, di cui ne parleremo in un altro video, a cui bisogna stare molto molto attenti, ragazzi. My Chargeback è la società dietro a questo sito che promette di andare a recuperare i soldi da parte tua se sei stato truffato da, per esempio, una società come Icon. con CFD. Attenzione, poi quando vado a cercare, comunque nella Financial Conduct Authority, che è un'organizzazione inglese, una delle più famose al mondo, che permette di verificare se una società ha la licenza o meno per poter operare e riportano tutta una serie di messaggi che avvisano gli utenti di possibili truffatori, scopro che comunque il nome Icon dell'Icon Group è un nome che viene già utilizzato da almeno 8 anni per fare truffe online ed è un clone di una ditta realmente autorizzata. Quindi loro sfruttano il fatto che questo Icon Group e Icon FX sia una vera e propria società o comunque, adesso, se questo Icon Group vediamo un attimo, per com'è Icon FX è quello truffa, quindi l'Icon Group riprende delle informazioni di una vera e propria società, che è l'Icon Finance Limited. Quindi bisogna stare molto molto attenti, ragazzi. Quello che cercano davvero di fare è di truffarti facendo finta che magari tu hai a che fare con una di queste società che sono realmente registrate copiandogli il nome, ma in realtà questa Icon CFD non è registrata da nessuna parte. Chiaramente se il signor Stefano che si occupa delle truffe in Italia vorrebbe per caso fare un'intervista, siamo disponibilissimi per discutere con lui di come mai questa persona abbia perso 42.000 euro e di come la società non sia registrata in nessuna parte del mondo, non abbia nessun tipo di licenza per operare, non abbia nessuna informazione sul proprio sito web che dichiari chi c'è dietro, ok, a questa società e quindi secondo me è molto molto interessante usiamo questo termine sentire effettivamente cosa dicono. Eccola qua che comunque anche la Consom in Italia ha riportato un messaggio contro la Icon CFD perché anche l'Italia per quanto magari sappiamo non siamo fan dell'Italia siamo un pochino indietro però ecco che esce fuori che chiaramente la Icon CFD è una società gestita da truffatori bisogna stare molto 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 attenti. Vediamo cosa dice il sito Icon CFD risulta attivo consultabile in lingua italiana attraverso meccanismi di traduzione automatica e prospetta la possibilità di fare trading su Forex azioni, indici, futures e commodities per poter operare richiesta da registrazione considerato che l'attività svolta tramite il sito è riconducibile le prestazioni di investimento è considerata possibile per un conto trading. Aspetta voglio vedere il tutorial che è rivolto al pubblico è stata riferita l'attività sollecitazione telefonica non richiesta eccolo qua considerato che i suddetti domini internet non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alle prestazioni di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano visto che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata bla 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 ritenuto visto cioè voglio dire come posso dire gli italiani sono sempre complicati però alla fine il concetto finale è si ordina di porre termine alla violazione dell'articolo chiudendo questo web ok e questo è stato fatto il 22 marzo 2023 e bisogna aspettare 60 giorni prima che prendano dei provvedimenti in questi 60 giorni ragazzi quante persone saranno state attroffate da questa icon cfd questa è la domanda che bisogna porsi questa è la domanda che bisogna porsi ragazzi bisogna stare molto molto attenti per favore ogni volta che trovate un sito web che promuove un qualcosa che è troppo bello per essere vero state lontani quando vi fanno vedere un sito web cercate sempre chi è il proprietario della società comunque vi posso anche dare queste informazioni anche se loro dovessero dirvi ah guarda il nome è questa persona se poi non avete le capacità informatiche per andare a fare una ricerca per capire se quella persona è vera oppure no per cadere nel tranello che loro stiano impersonando magari una società che realmente esiste però questo è un altro sito web rischiate lo stesso di farvi fregare quindi a mio avviso a prescindere mai inviare soldi mai inviare soldi a società piattaforme di trading investimenti tutto quello che tutto questo genere di società che vi promettono di guadagnare soldi facilmente e velocemente dovete solo ed unicamente utilizzare le vere società più grandi in assoluto se avete dei dubbi se non vi sentite sicuri abbiamo fatto il servizio gratuito dove lascio il link in descrizione dove ci potete contattare ci date il sito web della società noi in 4 secondi vediamo subito se c'è dietro un vero proprietario se c'è dietro una vera società se hanno l'autorizzazione ad operare o se invece probabilmente è una truffa chissà magari proprio come questa icon cfd che a quanto pare a parte un sito web non ha dietro nessuna vera società nessuna vera persona e nessuna autorizzazione ad operare nel mondo del trading quindi ragazzi state molto attenti io sono Samuel di Club6 se questo video ti è sembrato utile condividilo per favore condividilo a più persone possibili metti mi piace commenta anche la tua opinione nei commenti avrò piacere di rispondere a tutti quanti questo video è terminato ci vediamo al prossimo quindi ragazzi ciao grazie a tutti Grazie.